Arrivati a questo punto della stagione, il margine di errore per il Campobasso ormai rasenta lo zero. Il calendario pone ai rosso-blu lavastese quale è possibile jolly salvezza, ma mister Colavitto e i suoi giocatori non è che siano troppo d'accordo con questa tesi. Si è parlato di Campobasso rimaneggiato e non si può dire altrimenti, ma gli aragonesi scendono domani in Molise altrettanto ricchi di defezioni. Tra queste, Colavitto dovrà tenere fuori dai giochi per infortunio Iodice, Carice e Maronilli. Serie perplessità ci sono sul nome del temibile Bittaie che ha lavorato con il contagocce durante la settimana. Dunque tre infortunati ed uno che tenta un recupero in extremis, neanche Colavitto quindi può schierare la migliore vastese a Selvapiana. Con una battuta non troppo di spirito si potrebbe quasi affermare che la maggior parte dei giocatori rosso-blu guarderanno il match dell'anno dalla tribuna. Le quattro squalifiche costringeranno il tecnico Piccirilli ad una formazione quasi già redatta e che vedrà molto probabilmente Marzano nel ruolo di vice Danucci. Cercasi altri classe 98 dopo lo stop sempre per squalifica di Capozzi. In Lizza ci sono Menna, amabile come soluzione di centrocampo e lo stesso Strianese. In difesa poche alternative rispetto a Gomez, Benvenga e Bolzan. Da qui ne deriva un reparto difensivo completamente senior che obbligherà l'allenatore del campo basso a collocare un under in porta, uno sulle fasce, uno forse a centrocampo che potrebbe essere proprio amabile ed uno in attacco. Se amabile dovesse essere accomodato in panchina, spazio dunque a due esterni classe 98. Altre alternative non si intravedono all'orizzonte, causa anche il gioco dei quattro fuori quota. A questo proposito il semidilemma può riguardare il classe 99. Tolto ormai Bisceglia, che qualche settimana fa si è dovuto operare alla schiena, il 99 di domani pomeriggio potrebbe essere solo uno fra i due portieri, Borrelli-Oriccio e Palange in attacco. Scelte forzate, dettate dalla disponibilità delle pedine. Da valutare un possibile rientro di Varsi, mentre il dubbio forte è sul nome di Gerardi, che continua ad accusare dei fastidi al tallone, che lo costringono anche a deambulare in maniera irregolare. Lo staff medico Rosso Blu sta provando il miracolo per riabilitarlo all'ultimo secondo. Le notizie dall'infermeria non si fermano qui, anche Elefante si è dovuto sottoporre ieri sera ad un'ecografia della quale si attendono i risultati, sia Gerardi che Elefante non si sono allenati a dovere. Il primo ormai da due settimane a questa parte, il secondo è limitato a questa settimana prevastese. Dopo un girone di andata ad alti livelli, gli abruzzesi sembrano aver davvero mollato anche a livello mentale. Ben nove sconfitte su 14 gare giocate nella seconda parte di campionato. Tutto questo non vuole significare che gli uomini di Colavitto verranno a servire tre punti al Campobasso domani a Selvapiana. La capienza destinata ai tifosi della Vastese è stata ristretta da parte delle autorità competenti a soli 50 biglietti vendibili. Di fronte a questa limitazione, gli stessi tifosi aragonesi, non senza qualche velo di polemica, hanno deciso di disertare la vicina trasferta di domani in Molise. Seguiremo in maniera dettagliata Campobasso-Vastese questa delicata sfida dopo il nostro TG Sport a partire dalle ore 15. La partita in questione verrà diretta dal signor Votta di Moliterno.